Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore La donna dice addio ad un programma e un'indiscrezione lascia il fan senza parole Orietta. Una voce incredibile che ha lasciato senza parole il fan che ha sempre creduto nel suo meraviglioso talento Nel corso della sua carriera, sotto consiglio di suo padre, ella partecipò al famoso concorso Voci Nuove Disco d'Oro a Radio Emilia, con la canzone Il cielo in una stanza di Ginopane, classificandosi sesta Punto proprio in quella occasione fece la conoscenza di un disco grafico che le propose un contratto senza però mai pubblicare il suo 45 giri Successivamente, però, firma un contratto con Palidor, incidendo perdendoti venendo notata in alcuni programmi televisivi La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 ha fatto di lei un personaggio davvero molto amato dal pubblico per la sua naturalezza e la sua semplicità oltre la grande professionalità che da oltre 60 anni illumina la musica italiana di tutti i tempi In una intervista al Corriere della Sera ella ha rivelato, Amadeus mi ha invitato a Sanremo e da lì ha conosciuto tutto Lì ho conosciuto Fedez, che mi ha proposto mille. Lì ho avuto l'incontro virtuale su Twitch con Manuelito, Hel Rato, NDR, ed è nata l'idea di una telenovela per i social, poi ha voluto produrre la mia nuova canzone, Luna Piena, che nelle radio sta già andando forte La donna oggi è una delle opinionisti del Grande Fratello Vip, ma nell'edizione scorsa faceva parte del cast di The Voice Senior Una indiscrezione riguarda proprio questo programma.L' indiscrezione che lascia senza parole i fan Orietta Bella.Orietta Berti ha esordito nella prima puntata del Grande Fratello Vip come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli e il conduttore Alfonso Signorini Partecipando al programma, però, ha rinunciato a diversi programma Rai come Che Tempo che fa di Fabio Fazio e al suo ruolo di giudice nel Talent The Voice Senior dove era approdata nella scorsa edizione Punto in molti si chiedono chi sarà il nuovo giudice che prenderà il posto di Oretta nel Talent The Voice Senior? Secondo quanto riportato dal portale Sani e Belli, pare che al posto della cantante ci saranno i ricchi e poveri nella formazione attuale ossia quella formata da Angelo Soggiu e Angela Brambati Al momento, però, si tratterebbe solo di un'indiscrezione né confermata né smentita dai diretti interessati Grazie a tutti No No